Amazon spinge la crescita dell'Italia, 17 miliardi investiti. Tecnologia e innovazione, l'Italia 5.0 alla cinquantesima edizione del Forum di Cernobbio. Doppia festa per l'Università Luis Guido Carli, cerimonia di benvenuto alle matricole e venticinquesimo posto nel ranking mondiale del Financial Times. Wizz Air presenta il volo diretto da Milano Malpenza ad Abu Dhabi. Sono stati presentati alla cinquantesima edizione del Forum di Cernobbio i risultati del Global Attractiveness Index 2024, sviluppato da The European House Ambrosetti, che prende in considerazione gli indicatori di apertura, innovazione, dotazione ed efficienza dei diversi paesi e vede l'Italia posizionarsi al diciassettesimo posto su 146, guadagnando una posizione rispetto allo scorso anno. Amazon ha accolto con favore le indicazioni emerse dalla ricerca, sulle quali sta già lavorando. L'azienda sta infatti investendo per rendere più sostenibili le proprie attività, elettrificando la rete dei trasporti e dei servizi di consegna e spostando volumi sul trasporto marittimo e ferroviario. Sta inoltre collaborando con istituzioni e partner attraverso un dialogo costruttivo tra pubblico e privato e offrendo strumenti digitali innovativi a supporto delle piccole e medie imprese italiane. Amazon continua ad investire fortemente in Italia. Dal nostro arrivo nel nostro paese nel 2011 abbiamo investito quasi 17 miliardi di euro in infrastrutture logistiche e in tecnologia e abbiamo creato 18.000 posti di lavoro che diventeranno 19.000 entro la fine del 2024, dando un grandissimo impulso all'economia del paese e soprattutto alle piccole e medie imprese con le quali noi lavoriamo. Ne abbiamo circa 21.000 che ogni giorno vendono attraverso il sito di Amazon. Infatti qui a Cernobbio abbiamo presentato dei nuovi dati che dimostrano l'impulso che Amazon dà alle PMI che nel 2023 hanno raggiunto 1,2 miliardi di export in crescita del 25% rispetto all'anno precedente, quindi un dato molto positivo, molto significativo e una delle cose che più ci fanno piacere è il fatto che le imprese che hanno cominciato ad esportare sono cresciute in maniera significativa, sono passate dal 50% al 65% l'anno scorso e questo è frutto dei nostri investimenti e anche frutto dei nostri sforzi in informazione dei nostri imprenditori e imprenditrici. Quindi dati molto positivi ovviamente che ci spingono a continuare a lavorare lungo questa stessa direttrice. Il Global Attractiveness Index 2024 racconta di un'Italia in movimento impegnata a migliorare il contesto normativo e infrastrutturale. Con il contributo strategico delle multinazionali e un focus su innovazione e sostenibilità, il paese ha l'opportunità di continuare a crescere rafforzando la sua posizione tra le economie più competitive. In un contesto in cui la tecnologia è elemento sempre più pervasivo, che guida una nuova rivoluzione industriale e si pone come abilitatore di nuovi modelli di lavoro che vedono al centro l'individuo, l'innovazione, alimentata dalle competenze, rappresenta la chiave per la competitività. Questo è il principio che ha guidato la realizzazione dello studio Italia 5.0, le competenze del futuro per lo sviluppo dell'innovazione nell'epoca delle intelligenze artificiali in Italia e in UE. Elaborato da The European House Ambrosetti Group in collaborazione con Fili Moris Italia, è presentato nell'ambito della cinquantesima edizione del forum di The European House Ambrosetti. Il capitale umano e la sua continua formazione sono quindi elementi essenziali per la crescita della competitività delle aziende. Ci mancano competenze non tanto come qualità, per cui il nostro sistema formativo in realtà ha una qualità buona, anzi a volte con delle punte di eccellenza, ma la quantità. Quindi ci mancano ingegneri, ci mancano formazione sull'ICT, quindi su tutto il campo del digitale e ci manca una formazione anche di base, quindi l'Italia globalmente è una popolazione che non è molto digitalizzata. Quello che abbiamo proposto come risultato della ricerca è che si, oltre alle interventi più tradizionali, quindi quelli forniti al pubblico, anche il privato, soprattutto nelle figure dei capi filiera, quindi nelle grandi aziende, può fare una parte importante. La capacità delle imprese italiane di essere competitive soffre però ancora il gap di competenze digitali. Solo il 3% delle imprese italiane sono uno stato avanzato di digitalizzazione. A medio e lungo termine questo significa una perdita di competitività della nostra industria. E questo si applica sia alla nostra industria manifatturiera, in Italia siamo i secondi in Europa per l'industria manifatturiera, ma sia anche alla nostra industria agricola, se vogliamo, anche lì, secondi in Europa, dietro alla Francia. Se non ci concentriamo negli investimenti che sono necessari per sviluppare le competenze che sono di rilievo rispetto a queste grandi sfide mondiali, nel medio termine perderemo competitività, perderemo quell'opportunità di essere un motore di crescita per il mondo. L'esperienza di Philip Morris Italia dimostra l'importanza strategica di investire nello sviluppo di competenze. Per esempio con il lancio dell'Instituto of Manufacturing Technology, che è il nostro centro di competenze industriali a Bologna, in partnership col Politecnico di Bari, Politecnico di Torino, con l'Università di Bologna, ma anche con gli ITS. Gli ITS sono una grande opportunità per il nostro paese, circa 70.000 studenti in Italia contro i 2 milioni della Germania, possiamo crescere tantissimo anche nel pre-universitario, per farlo servono sempre di più delle academy molto innovative come questa e anche in ambito agricolo l'agritech prevede il fatto che ci sia un digital farmer che sappia utilizzare queste tecnologie e qui con l'Università di Perugia, con l'Open Innovation Hub Belief che abbiamo aperto a Perugia, cerchiamo di creare queste competenze per il futuro del nostro paese. L'Università Luis Guido Carli di Roma inaugura il nuovo anno accademico con la cerimonia di benvenuto alle matricole e al tempo stesso un importante traguardo, il 25esimo posto nel ranking mondiale del Financial Times per la laurea magistrale in Management, guadagnando ben 5 posizioni rispetto al 2023. Il prestigioso risultato, celebrato nell'aula magna del campus, è frutto di un investimento costante in un'offerta formativa dai contenuti innovativi, che pone crescente attenzione allo sviluppo e alla diffusione delle nuove tecnologie con un focus specifico sull'intelligenza artificiale come motore di opportunità e generatore di valore. Oggi abbiamo aperto una nuova stagione nella nostra università in cui vogliamo abbracciare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, le nuove sfide della società e vogliamo in qualche modo formare dei protagonisti consapevoli che hanno dalla loro un bagaglio di competenze, di strumenti, ma anche una visione del mondo basato sull'etica e sul rigore che sono due temi fondamentali per affrontare le sfide della società. Abbiamo una comunità di giovani e di docenti che è, diciamo, orgogliosamente e consapevolmente orientata ad affrontare quello che ci aspetta, quello che ci aspetta in termini di complessità, ma allo stesso tempo di innovazione e sviluppo. Durante la cerimonia di benvenuto, in collaborazione con Intesa San Paolo, si è discusso dell'importanza delle soft skills e della flessibilità per affrontare i rapidi cambiamenti del mondo del lavoro. Il programma Look Forward, Build Your Future, ideato dalla banca per ispirare i giovani sui principali trend della società, dell'economia e delle competenze per il futuro, ha guidato l'evento. Intesa San Paolo crede fortemente sull'education e sui progetti di crescita civile e culturale della società. Abbiamo quindi sviluppato insieme alla LUIS Guido Carli, un ateneo di eccellenza italiana, un nostro partner strategico, un osservatorio sulle competenze, Look Forward, che ha proprio l'obiettivo di andare a monitorare i fabbisogni di nuove competenze in un mercato in continua trasformazione. La partnership con Intesa San Paolo sottolinea il profondo legame della LUIS con il sistema produttivo istituzionale, parte integrante del DNA dell'ateneo. Witzer inaugura i voli intercontinentali low cost all'aeroporto di Milano-Malpensa. Dal 2 giugno 2025 il nuovo Airbus A321XLR collegherà quotidianamente Malpensa ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Un annuncio importante, quello fatto a Milano dalla terza compagnia aerea in Italia, la più sostenibile a livello globale, che apre la strada alle molte altre tratte che sfrutteranno la maggiore autonomia e l'efficienza del nuovo velivolo. Siamo entusiasti di aver presentato oggi la nostra prima tratta intercontinentale low cost da Milano-Malpensa a Abu Dhabi. Il polo di Malpensa è la nostra prima base operativa in Italia. L'abbiamo aperta nel 2020, nel bel mezzo della pandemia, ed ha performato molto bene. Ad oggi il nostro traffico di passeggeri a Milano è aumentato di oltre 5 volte rispetto al periodo pre-pandemico ed è quindi stato un investimento di grande successo. Il velivolo che effettuerà questa tratta, l'Airbus A321XLR, cambia il paradigma economico delle tratte che superano le 7-8 ore. Si tratta di un volo lungo e, avendo sondato lo stato attuale del mercato, crediamo che potremmo essere competitivi grazie alle tariffe contenute. Le persone saranno quindi in grado di permetterselo. La scelta di Richair di operare da Malpensa il primo Airbus A321XLR basato in Italia conferma il ruolo di rilievo dell'aeroporto nello sviluppo di nuovi modelli di business. Questo ha un significato soprattutto strategico perché dimostra il potenziale e la potenza del mercato di Malpensa e di Milano, della Lombardia, sul lungo raggio. Come dicevo prima, noi non abbiamo un vettore di bandiera che fa hub, a Malpensa e ciò nonostante abbiamo moltissime destinazioni di lungo raggio. E quindi vettori come Wizz Air che introducono macchine innovative come questa avranno delle opportunità di introdurre, in questo caso, una rotta già esistente, ma sicuramente ci saranno degli spazi di operare rotte nuove, rafforzando ulteriormente questo nostro posizionamento che qualifica, Malpensa e offre opportunità ai cittadini e anche a turisti che possono più facilmente arrivare a Milano. Grazie a tutti! Grazie a tutti.